ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch un nuovo non è tanto nuovo è un glitch dei soldi è l'unico funzionante ragazzi quindi sfruttatelo al massimo e niente incominciamo con partiamo con il glitch per fare questo glitch vi serve un'auto di strada modificata senza localizzatore senza assicurazione è un amico con il cargo bob non so è un po una rottura dei coglioni cargo bob però cargo bob serve serve allora per fare questo dovete andare verso il vostro garage entrare nel garage come avete appena visto come ho fatto io mettere l'auto vicino al punto a duro e poi uscire dal garage andate a tappare a tappare diciamo le porte del conducente e del passeggero contro un muro come stavo facendo io e poi il gioco è fatto in pratica il vostro amico con il cargo bob farà il resto allora trovatevene uno bravo come ho fatto io almeno avrete buone possibilità di riuscita di questo glitch io in questo caso per france che è un campione un pro con il cargo bob un saluto e vi ringrazio dalla collaborazione nel video insomma una volta fatto questo che cosa dobbiamo fare dobbiamo avviarci nel verso il nostro garage e accettare una gara improvvisata che il nostro amico dal cargo bob ci manderà una volta accettata questa gara improvvisata come avete visto insomma dovete accelerare verso la porta del garage e accettare il messaggio di garage pieno andate a teletrasportarvi nel vostro veicolo che avete precedentemente tappato e in quel caso una volta teletrasportati dal vostro veicolo l'unica cosa che dovrete fare è spostare il veicolo giustamente e fare in modo che il vostro amico riesca ad agganciarvi con il col bomb quindi collaborare anche un pochettino con la persona che vi sta dando una mano in maniera tale che vi possa agganciare una volta agganciato il vostro amico vi dovrà diciamo tipo lanciare verso la porta del garage in maniera tale che entrerà automaticamente non dovete premere x non dovrete premere nulla e niente ragazzi il glitch è fatto per ripeterlo nuovamente dovrete fare un'altra volta la storia della gara improvvisata e tutto il resto se invece non volete ripeterlo salite nell'auto e entrate in garage niente ragazzi per questo qui c'è tutto approfittatene un saluto da maxi al prossimo video